Francesco, bello che ti senti back. Grazie. Come ti senti? Bene, ora bene. Preparo la traduzione di Gabriele ora perché è importante per me, dopo in inglese, se posso. In questi due mesi la mia vita è cambiata totalmente. In ultimi due mesi la mia vita è cambiata molto. È cambiata la lingua, è cambiata il lavoro, una nuova liga, nuove responsabilità, è cambiata la mia dieta, è cambiato tutto. E io ho dato il 150% per essere pronto per cercare di salvare la squadra. perché ho sentito, come sempre, la responsabilità, dopo la chiamata del presidente, di salvare la squadra. dopo aver parlato del presidente, ho sentito la responsabilità di salvare la squadra, come lo fa normalmente. e dopo 50 giorni a mille all'ora, il mio corpo ha detto stop per qualche giorno. e dopo 50 giorni, il mio corpo ha detto stop Francesco. No, ho bisogno di restare, ho bisogno di restare, ho bisogno di restare. di restare, ho bisogno di restare, ho bisogno di restare, ho bisogno di restare. di restare, ho bisogno di restare in settimana per intervenire con la squadra, con le mie asistenti per preparare i giocatori, Arsenal, Norvigia, anche in l'hospitalo. Ora sono in mia flatte e ho lavorato con l'assistente, con Alan e con i giocatori ogni giorno, ma non è possibile per me andare a scuola per alcuni giorni. Do you hope to be in the games after Bournemouth? The matches Aston Villa and the matches afterwards? Do you hope to be back? Yeah, for the match again Aston Villa, I hope, I think, yes. But important thing is, yes, for me, this period, but important is our table now. Because we did two victories very, very important against Arsenal and Norwich. And now is not enough, is not finished. I want more, I want more, because I know that our team is a good team and we can do better, and we can close, we can finish the season very well. Premier League is difficult, and we are not sure now, but the table is important, is better. And I remember when I arrived in Swansea, we had two points more on the relegation zone, and now is another thing. But it's not enough, and I want to see my team play well on Saturday and for the other matches in the season. How helpful for you, how much have you had to rely on Alan Curtis over the last two weeks? Alan is my friend. Alan Curtis is my friend, is a perfect person. We see football in the same way and he is important for me, important for the club, È importante per i fanno Swansea e il sentimento è perfetto tra noi. Guardando questo gioco a settembre, Francesco, i Bournemouth erano in problematica, ma come te, hanno riuscito a stringere alcuni risultati insieme. Quale tipo di gioco pensi che questo sarà? La Bournemouth è un buon team, lo vedo in questo giorno. È un team con entusiasmo. È una squadra molto buona. È un team con entusiasmo. Credo che abbiamo la condizione di giocare bene, perché adesso la nostra condizione è migliore, è buona. E io vorrei vedere un match, un'open match, between due due team. Justi due more questions. Firstly, il futuro per te, e il futuro per te, e il futuro per te, al final del settore e al più? No, il futuro è qui. perché ho avuto un contratto con il ministro per questa settimana e dopo. Il più importante è di salvare la squadra e di avere la possibilità di giocare in la Premier League prossima. Questo è il più importante. E io sono felice di essere qui, se c'è una possibilità. Ho spero di stare qui per un tempo, ma ora non è importante. Francesco, quando sei in hospital, come hai avuto i due giocatori di Arsenal e Norwich? Were you able to watch on television? No, no. I was in my bed with my wife and... Non together. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Solo con internet. Non ho avuto la possibilità di vedere le partite, ma ho seguito con grande trepidazione. Non ho avuto la possibilità di vedere i giocatori perché ero in hospital, ma si seguiva ogni minuto, via internet, via chat, via tutto il tempo. Quindi, dovresti essere entrato quando hai visto i risultati che l'onore senza te? Si. Si, sì. Molto importante, molto importante, molto felice per tutti i ragazzi, per i miei giocatori, per i miei assistenti, per i miei leader, per i fatti, per i miei fatti. Last question for me Francesco, you said that the team has not done enough yet to be safe, how many more victories do you think you need to get safe? Match by match. The Premier League is difficult, we won Arsenal for example, it's possible another team in a relegation zone can win against a big team. Nothing is impossible in Premier League, this is important to understand. We have only to see match by match and to be concentrated for Saturday, because Saturday we have a match very important, very difficult. But I don't know how much victory... Thank you. Francesco, when you were in the hospital you sent a note to the players, you wrote a note to the players and it was put in the dressing room and the players said that it inspired them for the win against Arsenal. How does that make you feel? He was very, very, very happy about that, because between Francesco and the players, it's a really important relationship. Not just relationship, it's just a lot of things. And especially in the days he was very, very happy. And it's been hard for you with the new language, new food, new life, as you say... New weather. New weather, good point. New weather. Have you learned anything new about yourself going through all that? No, 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 but this is my way, is my way of... To live. To live. in questo modo e 150 per cento sempre e credo di football, credo di mio lavoro 24 ore al giorno e questo non è una buona idea perché a volte potrebbe rilassarsi, ma non è la mia attitudine, non è la mia forma di vita. Quindi non credo di cambiare? Può essere, ma non è facile perché non sono più piccolo.